Ehi! Ok, vabbè, 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 cambio, cambio, cambio. Ho una ragione, Francesca, ma chi l'ha detto di fermare? Vabbè, hai ragione te, hai ragione te, scusaci. Ehi! Vabbè, è un tuo amico. Devi giocare bene. Ehi! Vedi? Una palla sempre sempre. Ragazzi, voi non siete soli lì, come devo spiegarvi? Questi uomini che si spostano, non puoi fare questo. Ehi! Vieni a prendere! A differenza delle vetture che hai tolglie a parola del piede, che sono io di fatto che sono fatto per seguire la decisione. È stato chiaro? Ehi! Va bene, è giusto! Non ti preoccupare! Ehi! 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 Va bene, adesso, non ti preoccupare! Ehi! Oh! Guarda la terra! Se riuscite a girare anche l'altro vi aiutare la strada. Guarda la terra! Guarda la terra! E se riuscite a girare anche l'altro vi aiutare la strada. bravo! bravo! 3, 2, fermo e gioca, 4, fermo e gioca, 3, fermo e gioca, 1, corri corri corri, gioca, 4, fermo e gioca, 4, fermo e gioca, 4, fermo e gioca, 1, corri corri, 2, corri corri, 2, corri corri, si trova sempre se è alto basta ci trova loro bravo è pronta? bravo bravo sono stato cattivo bravo bravo Dario dimmi che l'hai presa dai cinque la foto dai passi ancora ancora ti faccio subito cancella tutto hai cancellato tutto? sicuro? cosa hai fatto? hai giato la porta e ti hai dato dietro come sta lato e quindi gira leggermente la porta per l'altro come sei bravo dai passi dai passi bravo dai passi dai passi guarda la pala che viva guarda la pala che viva viva si 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 bravo 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 dai passi bravo 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 dai passi dai passi dai passi guarda la pala Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.